Essere sfrattati non è mai piacevole, ancor di più se ciò accade prima di entrare nella propria dimora. E' quanto accaduto ad una signora di Castellaneta in provincia di Taranto, con la differenza che la dimora in questione non è una casa, ma un loculo. Ebbene sì, Angela Scarpetta nel lontano 1983 decise di provvedere al suo ultimo viaggio acquistando al cimitero di Castellaneta un posto da un privato. Per 26 anni tutto bene, fino allo scorso venerdì, quando sua figlia, in visita al cimitero e ai propri cari, ha notato con sorpresa e sgomento che l'oculo della madre era occupato da un altro defunto, con tanto di lapide, nome, fotografia e fiori. Io venendo al cimitero mi sono fatta un giro per i miei defunti e ho trovato il posto di mia madre occupato. Mi sono resa conto che era quello il posto, vedendo il contratto e il numero è quello. Non so da chi è partito il fatto di essere occupato quel posto che già è venduto. Una vicenda che ha dell'incredibile. Il posto infatti fino al 2001 risultava di proprietà della signora Scarpetta, contattata dal proprietario dell'otto per dei lavori di ristrutturazione che l'anziano ottantenne ha regolarmente pagato. Poi l'ha scoperta. La signora Angela adesso rivuole il suo posto. Che cosa farete adesso? Quali saranno i prossimi passi? Denuncerete il fatto? Penso proprio di sì. Andremo avanti con la magistratura.